Voglio mandare con calma il calcio napole invece battuta di Venta e ripartarò se è lì Prima! Ci lancia! Eeeeh! Si! Sono comici! Eeeeh! 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 Si! Preccia più! Io non mi rinforzano! Ci lanciano un'altra! Ma vai, non fa! La doma c'è! Perché se ne ha? Stato c'è! E' possibile! Vengitelo. Fucicci. All'azio! Forse il bambino, NON DIO! C'era paura. Non lo so, non lo so. Ma, di chi cazzo lo va? Ma, ci stanno bene. Caramba! Dai mi rossi! ma si sentite rosso no, tosti la si scontro questa panna vado alla sua, vado a vedere ma scudino da dentro, vado a vedere questa panna eh ma buffo in una panata ma che panna? si subisce panna? buffo in una panata questa panna non sai neanche tutto il gioco non va niente arriva il professore verso l'occhio arriva Tony, l'errore, può saltare i che panna è già! che panna è a guardia! che c'è? chi è? tu sei il bambino? se lo fanno la panna è in passione se lo fanno i pacchi e se lo fanno i pacchi e si sopra il calcone ha detto che panna è in passione vero? ti sono espermai tanto questa eh che panna è a ragazzi Oh, è un po' di giro, io non lo so Se non c'è la parola Noi che cazzo è cosa vedete che gli hava Oh, oh, ma che vuoi? Che vuoi? Ma 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 che vuoi?